Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Buonasera a tutti i nostri ascoltatori Sampdoria molto interessato a Giovanni Simeone Proposto come contropartita alla Fiorentina Manolo Gabbiadini Che però non convince La gestione ad altre squadre dell'ex Napoli potrebbe comunque sbloccare la trattativa Davide Santoni in uscita dalla Roma I giallorossi sono vicini a Zappacosta che libererebbe l'ex Inter Il terzino piace alla Fiorentina, su di lui anche il Parma E' nel frattempo avviata la trattativa per il rinomo di Lorenzo Venuti Dopo aver conquistato la conferma ha anche convinto la società a puntare su di lui E a breve potrebbe arrivare la firma del prolungamento Per Fiorentina1.com Antonio Tedesco Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola A cura di Fiorentina1.com Grazie a tutti